Ben trovati ad una nuova puntata di Femminile Plurale, l'appuntamento con le voci delle donne impegnate nei più diversi settori della vita, della cultura, dell'impresa, dell'arte, della politica e dell'impegno sociale e civile. C'è aria di libertà nelle campagne di Cerignola, una città simbolo delle lotte contadine, terra di Di Vittorio. Oggi Cerignola fa parlare di sé per l'impegno, il coraggio e il riscatto sociale e infatti a quanto ci risulta l'unica città di Capitanata in cui cooperative di ragazze e ragazzi lavorano sui terreni confiscati alle mafie. Poco fuori città, incontrata a Scarafone, sorge terra out, bene confiscato ad un esponente di spicco della criminalità cerignolana durante la Baxi Operazione Cartagine del 1994, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari dal 2011, affidato alla Cooperativa Sociale Alter Eco. Un bene confiscato alle mafie, un bene restituito alla collettività. Questo è il motto proprio dei fondatori della Cooperativa Alter Eco. Vincenzo, Dora e sono due dei tre soci fondatori. Abbiamo Dora con noi oggi. Bentrovata, Dora Giornatempo, socia fondatrice della Cooperativa Alter Eco. Bentrovata, Dora. Buonasera a tutti. E' così, no? Un bene confiscato alle mafie, un bene restituito alla collettività. Vogliamo partire da questo, Dora? Sì, un bene confiscato alle mafie, un bene restituito alla collettività ed è, diciamo, ciò che chiunque dovrebbe sapere. Tutti quelli che gestiscono beni confiscati devono tenere bene in mente che un bene confiscato non è un bene di proprietà privata o appartiene a chi lo gestisce. Un bene che viene dato incomodato ad uso gratuito alle organizzazioni che lo utilizzano e mettono a valore, diciamo, il loro utilizzo per scopi sociali, ma resta sempre un bene collettivo. Cioè, è sempre un bene di tutti. Cioè, significa che tutte le persone appartenenti al territorio possono chiedere, informarsi e approfondire quali sono le attività che realmente si realizzano e si sviluppano su questo bene confiscato. Perché la legge 109 recita proprio questo. Un bene deve essere riutilizzato per scopi sociali. Quindi viene data a noi e alla società, alla collettività tutta, la responsabilità monitorante di comprendere che cos'è un bene è ciò che si fa su un bene confiscato. Quindi una sorta di collaborazione tra cittadinanza e istituzioni, tra cittadino semplice e Stato. Vincenzo, d'ora e c'è un terzo socio fondatore. Alberto. Quindi siete in tre, avete dato vita a questa cooperativa. Terra Out è anche qui un nome evocativo. Chi conosce la storia degli ultimi decenni non può che non ricordare il coraggio e la libertà dell'emittente radiofonica autofinanziata tramite cui Peppino Impastato denunciò i crimini e gli affari dei mafiosi di Cinisi. Proprio Radio Out. Terra Out è un'azienda agricola di appena 8 ettari, con trada a Scarafone, dicevo, a 3 chilometri dal centro abitato di Cerignola in una zona rurale che affaccia su una via francigena del sud e nasce, come dicevi appunto poco fa, Dora, su un terreno confiscato alla mafia e dato in gestione proprio alla vostra cooperativa. Intanto, Dora, prima di arrivare al progetto Terra Out vorrei fare un passo indietro con te. Cioè, come nasce la cooperativa, perché anche qui c'è una storia dietro alla nascita di questa cooperativa. C'è un sogno, c'è l'insieme di volontà e di progetti che da appunto sogni diventano effettivamente realtà. E poi arriva l'esperienza di Terra Out che ha conosciuto anche la ribalta nazionale. Ma poi ci arriveremo più in là. Partiamo dalla vostra esperienza, Dora, raccontaci che cosa è successo. Allora, è accaduto semplicemente questo, che eravamo tre ragazzi nel 2007, che si sono conosciuti in Caritas, nella Caritas diocesana della diocesi di Cerignola a Scoli Satriano, e che nella Caritas diocesana stavano svolgendo un progetto di servizio civile nazionale. Il nostro progetto di servizio civile nazionale volgeva al termine intorno a dicembre, almeno il mio progetto, perché io e Vincenzo svolgevamo due progetti differenti. Il mio progetto era rivolto ai migranti, il suo rivolto ai minori. Invece Alberto è un altro amico di entrambi che è con noi, si voleva occupare di ambiente, educazione ambientale, di formazione alla cittadinanza attiva, consapevole. Volevamo fare formazione sul nostro territorio prevalentemente. Io mi ero appena laureata in Scienze Tecniche Psicologiche e abbiamo avviato quest'idea. Abbiamo chiesto alla Caritas diocesana, attraverso il progetto Policuro, di costruire quest'idea progettuale, questo progetto di vita, questa impresa. E così l'animatore di comunità di quei tempi ci ha guidato nello sviluppo dello business plan, ci ha guidato anche nell'attuare, nel mettere su tutte quelle che sono le pratiche amministrative per fare impresa. E così tra i ragazzi normali, che provengono da contesti completamente normali, senza alcuna strana conoscenza, ma completamente dal basso, facciamo impresa. Io ricordo benissimo quel giorno in cui andammo a firmare il rogito dal notaio percepì l'importanza di quello che stavamo facendo. Ecco, devo dirti anche il costo, perché per darti un po' l'idea, con queste 500 euro a testa di budget, mettevamo su un fondo cassa per poter costituire la cooperativa. E questi soldi erano guadagnati dal servizio civile, che ci garantiva una piccola autonomia in quell'anno di servizio civile. E così da lì parte la nostra idea, iniziamo a fare dei piccoli progetti nelle scuole, di ogni ordine e grado, sull'educazione ambientale, sull'educazione alla cittadinanza. Ovviamente siamo in rete con la Caritas, siamo in rete con Libera, siamo in rete con altre organizzazioni del territorio, che si occupavano degli stessi temi. e abbiamo iniziato a fare squadra. Di lì nasce Alter Eco, Alter Eco, proprio come si può comprendere dal nome, Altra Ecologia, fa riferimento un po' a quello che è il pensiero ecologico, un pensiero fluido, pulito, senza sovrastrutture, un pensiero che si evolve in maniera naturale. Ecco, questa era l'idea che volevamo dare attraverso la scelta di Alter Eco, un'altra ecologia, un'ecologia del pensiero, no? Questa è filosofica. L'altro, no? Cioè, nasce anche da quell'idea di mettere insieme l'ambiente, l'altro come minore, come migrante. L'importanza dell'interdipendenza, nella sostenibilità ambientale. E quindi nasce da questa sensibilità il nostro progetto. Inizialmente voleva occuparsi semplicemente di formazione, poi piano piano è diventato sempre di più un impegno sul campo. Abbiamo fatto presidio di Libera con le altre organizzazioni del territorio, fondando nel 2009, insieme ad altre organizzazioni, il presidio stesso. Abbiamo avviato delle azioni formative con tutta la rete territoriale e di lì abbiamo iniziato a partecipare al corso di formazione sulla gestione dei beni confiscati. È stato un evolversi passo dopo passo. Di lì il monitoraggio civico, siamo scesi per le strade a mettere un po' le bandierine su quelli che erano i beni confiscati da assegnare. Perché l'urgenza è sempre quella. I beni vengono confiscati, ma devono essere subito assegnati. Altrimenti si lasciano alla mercè di chiunque e si passa il messaggio che magari si generava lavoro quando c'era la manca e invece quando arriva lo Stato ciò non accade. E con la nostra azione, insieme alla rete territoriale, come dicevo, inizia proprio attraverso il monitoraggio civico. E quindi iniziamo con una mappa alla mano a mettere le bandierine su quelli che erano i beni confiscati da far mettere a bando all'amministrazione comunale. La bellezza di quel tempo è stata proprio questa, che l'amministrazione comunale sia destra che sinistra hanno comunicato tra loro e insieme, in prima istanza, un'amministrazione di sinistra firma il protocollo con Libera per poter liberare i beni confiscati e poi successivamente un'amministrazione comunale di destra li mette a bando. Quindi questo è stato sintomo all'epoca di una politica che ha voluto fortemente dare un segnale al territorio. E così vengono messi a bando i primi beni confiscati. Noi all'epoca non pensavamo di riuscire a vincere questo bando. C'è stata prima una prima tornata, un primo bando dove ci eravamo presentati in partnership con altre organizzazioni del territorio per la gestione di altri beni confiscati e poi c'è stato proprio il bando di Contrada Scarafone. Contrada Scarafone, parliamo di otto ettari, quasi cinque all'epoca erano coltivati con un vigneto di qualità uva Italia, poi c'erano degli alberi di olivo e degli alberi di ciliegie, una casa fondiaria bellissima su due piani. Io dico bellissima, una casa di campagna, diciamo molto carina, sulla quale potevamo sviluppare già la nostra idea progettuale. Infatti la nostra proposta progettuale era proprio realizzare lì una masseria sociale, un luogo dove fare aggregazione al lavoro nei campi. che cosa accade? Che ci presentiamo o presentiamo il nostro progetto al comune di Cerignola, in rete ovviamente facendo squadra con le altre piccole organizzazioni che erano presenti nel presidio e ci rendiamo conto che lo vinciamo. Noi non potevamo crederci perché eravamo piccoli, ora non è che siamo chissà quanto grandi, però in ogni caso eravamo quattro ragazzi che provavano a fare impresa e si sa, pensare ad un'impresa nel sud senza scopo di lucro, che potesse avere questa credibilità o questo riconoscimento a livello comunale ci sembrava una cosa molto grande e poi lo è stata. Tant'è che vinciamo il bando e non potevamo credere ai nostri occhi, corriamo in comune a vedere la graduatoria perché era un momento di crescita per la cooperativa, uno scatto evolutivo. Arriviamo in comune e ci rendiamo conto che al bando c'eravamo presentati solo noi, al che da giovani ingenui iniziamo a pensare al perché questa cosa fosse accaduta, o perci di terreno, uva Italia, cioè poi abbiamo indagato. La voglia di crescere anche dal punto di vista sociale, imprenditoriale, non vi faceva guardare l'altro lato della medaglia? No, assolutamente, i nostri occhi non erano fuscati dalla paura o dal timore di chi ci fosse stato, ma dalla voglia di poter crescere, di poter fare impresa, restando qui nel nostro territorio. Ci siamo resi conto perché ovviamente l'ex proprietario del bene era una persona pericolosa secondo gli atti giudiziari, secondo le sentenze, per cui sicuramente la paura di altre organizzazioni o altri singoli associati è stata tale che siamo rimasti solo noi. Ma questo non ci ha fermato, nel senso che ok, ne abbiamo preso coscienza, ne abbiamo preso atto, abbiamo preso le chiavi del cancello in comune e siamo arrivati lì, davanti al cancello. Valutate che Terra Out dista dal centro abitato circa 3 km, quindi si può arrivare anche in bicicletta, è un posto molto carino. Arriviamo lì e ci rendiamo conto che così carino non era più, perché le chiavi non servivano più, perché si erano rubati tutto, si erano rubati i cancelli, la recinzione, avevano distrutto la casa all'interno con i martelli, avevano divelto tutti gli infissi e avevano distrutto tutti gli arredi presenti all'interno della casa. Per non raccontarvi che nell'ettaro e mezzo adiacente la casa era stato completamente ricoperto di rifiuti, rifiuti edili, rifiuti speciali, c'era anche dell'amianto e c'erano circa 5 metri in altezza di rifiuti bancali e ferro. Vi lascio immaginare lo scoramento una volta arrivati. Che cosa abbiamo fatto? Non ci siamo fermati perché non eravamo su, facevamo squadra, avevamo una squadra che era quella del presidio e da lì sono iniziati i campi estate liberi. Attraverso questi campi abbiamo iniziato a ripulire il bene, abbiamo iniziato a togliere i mattoni, a regalarli alle imprese edili del territorio, quindi non a buttare, a riutilizzare tutto quello che era riutilizzabile e a bonificare quello che si poteva bonificare. Arrivati all'amianto abbiamo avuto delle difficoltà perché l'amianto ci abbiamo messo circa 3 anni per poter toglierlo di lì. Abbiamo fatto una lotta pacifica, non violenta, con le istituzioni pubbliche, sottolineando sempre il fatto che un bene confiscato è un bene collettivo, ma sempre un bene dello Stato, per cui tutte le difficoltà relative a un bene confiscato, soprattutto in fase di assegnazione, devono essere corresponsabilità tra le amministrazioni e le organizzazioni che prendono in carico questo bene e che questo bene lo vogliono far fiorire. Per cui dopo 3 anni di lotta violenta, attraverso le porte principali di accesso alle istituzioni, siamo riusciti a far bonificare terra out dell'amianto. Ecco, questa cosa ci ha sottolineato quanto fosse importante la lotta dal basso, la lotta senza i micromi, la lotta fatta facendo le file dietro gli uffici, bussando e rivendicando la giusta attenzione verso i beni confiscati, facendo squadra in rete con le associazioni dell'epoca che insieme a noi diventavamo una voce più grossa che richiedeva semplicemente un diritto, il diritto di poter lavorare in un luogo che non fosse contaminato dall'amianto. E così le amministrazione regionale e comunale si sono messe in comunicazione e sono riuscite a bonificarci il terreno dall'amianto. Ora, di lì il percorso è stato lungo, non vi nego abbastanza faticoso, tuttora lo è, ma carico di soddisfazioni, perché la cooperativa, come dicevate, è un'impresa, un'impresa sociale che si occupa di inclusione sociale. L'obiettivo principale proprio di Alterico, di Terà, è l'inclusione sociale di persone che provengono da percorsi di svantaggio, percorsi di giustizia, percorsi di disabilità. Diciamo, la prima svantaggiata dell'organizzazione sono stata io, perché in quel momento vivevo un grave problema di salute. Poi, di lì in poi, abbiamo accolto altri tipi di svantaggio, anche persone che provengono da percorsi di giustizia, invece di stare a casa a fare i domiciliari, o che hanno bisogno comunque di lavorare, nonostante abbiano delle condanne, vengono con noi a lavorare, imparare un mestiere, fanno una borsa lavoro, per cui non sono dei volontari. Imparano a lavorare. E questo grazie alla collaborazione tra l'ufficio di esecuzione penale esterna di Foggia, grazie alla collaborazione tra noi, il tribunale di Foggia, grazie ad una rete istituzionale, e del terzo settore, che si è messa in comunicazione, ha messo a valore quello che è il vero significato di un terreno collettivo, cioè restituire, dare un'altra opportunità. Quindi piano piano le route al seco sono cresciute. In pochi minuti, credo, la storia di un decennio, o giù di lì. Eh sì, più o meno sì, ma non è neanche tutta, perché anche l'idea, la scelta del nome del terreno, inizialmente noi abbiamo avuto due anni in cui era contrata Scarafone, non ne avevamo dato ancora un nome, perché eravamo impegnati a ripulire. Poi stavamo realizzando un percorso formativo con una scuola secondaria di secondo grado della città, e di lì iniziamo a pensare a come chiamare questa terra. E abbiamo iniziato a riflettere su quale fosse il momento in cui il nostro interesse verso l'antimafia sociale fosse nato. E a dire il vero, a volte sembra banale, ma le storie delle vittime di mafia che vengono raccontate attraverso i film arrivano davvero a tutti. E la storia di Peppino Impastato ci è arrivata intorno al 2001 come un pugno nello stomaco grazie al film I Cento Passi, ecco perché abbiamo scelto di chiamarla a terra out. E quando l'abbiamo battuta... E c'è stato anche un'inaugurazione speciale per questo? Sì, l'inaugurazione speciale l'ha fatta proprio Giovanni Impastato, il fratello di Peppino. Ed è venuto insieme a tutte le scuole secondarie di secondo grado di Cerignola, c'era una rappresentanza di tutte le scuole con tutti i dirigenti, che insieme a noi tiravano giù quel velo da quella targhetta e iniziava la storia di terra out. Terra out proprio come terra alternativa, come radio out, no? Una terra alternativa a quello che magari all'epoca offriva il territorio. Ora tante sono le organizzazioni che iniziano ad impegnarsi, ad attivarsi, ad aprirsi a questo tema, anche se è molto, molto complicato. Molto complicato. Ecco, noi passo dopo passo, io non mi stanco mai di raccontare ai cimani con i quali riusciamo a fare delle progettuali, progettualità di educazione alla cittadinanza consapevole, di formazione verso il monitoraggio civico, perché tante sono state le progettualità sia promosse dal Ministero delle politiche sociali, politiche giovanili, sia promosse dalla Regione Puglia. Tante sono state le progettualità che abbiamo messo in atto con Alter Eco. E non mi stanco mai di dire sempre ai ragazzi non vi fate scoraggiare da nessuno, perché la storia di Alter Eco racconta, seppur con fatica, che è possibile, che per tutti è possibile. L'unica cosa è impegnarsi, studiare, ricercare attività e mettersi in rete, non spaventarsi di fronte a chi non fa rete, a chi chiude le porte e non fa squadra, ma cercare una rete, perché c'è sempre qualcuno dall'altro lato che come noi sta provando a far crescere un territorio e se stesso nel territorio. E diciamo che la nostra storia racconta questo, una storia che cresce passo dopo passo. Noi abbiamo collaborato anche con Copp Alleanza 3.0, i punti vendita IperCop d'Italia, facendo per Copp Alleanza i percorsi di educazione al consumo critico. Una delle animazioni era proprio fare antimafia attraverso i consumi, con la spesa a Pizzo Zero. E noi riuscivamo a fare queste animazioni dei punti vendita Copp dalla Puglia in su, come animatori e formatori. Di lì è nata insomma la voglia di poter provare a collocare i prodotti di Terra Out in una filiera. No? In una filiera nazionale. Visto che il vostro e visto che il vostro olio è arrivato a Parigi, ecco, abbiamo, non abbiamo tantissimo tempo, però vorrei che tu aprissi una piccola finestra, te lo concedo, per raccontare quello che state preparando, perché le attività di Terra Out sono tantissime, vanno da un B&B sociali ad un attività educative, bike sharing, degustazioni, laboratori all'aperto, ma soprattutto bottega di prodotti etici, come a voi piace chiamarli ovviamente a chilometro zero. E quale occasione migliore di una festività come per esempio quelle natalizie per, ho letto in una tua intervista, far capire che è possibile produrre e quindi mettere come dire, sul mercato dei prodotti che siano etici, cioè lavorati senza sfruttamento, con un determinato codice etico in una situazione così bella come quella appunto di Terra Out che vuole creare integrazione, inclusione e anche opportunità per chi vuole una seconda opportunità nella vita. Certo, una seconda opportunità ma anche più di una seconda va data a tutti. Ecco perché diciamo Alterico si occupa di inclusione, si occupa di inclusione proprio attraverso l'impresa quindi non è volontariato non parliamo di simboli parliamo di concretezza parliamo di un'impresa che deve essere sostenibile. A Terra Out quest'anno negli ultimi tre anni siamo riusciti a fare dei progetti insieme a delle altre organizzazioni nazionali anche per togliere dei ragazzi dal ghetto dai ghetti qua vicino per poter migranti ovviamente che vivevano in una situazione di sfruttamento dando loro la possibilità non solo di imparare la lingua italiana ma anche di acquisire delle professionalità e lavorare alcuni di loro sono rimasti con noi altri hanno scelto di percorrere altre strade beh tutto questo porta a dei prodotti concreti oggi Terra Out ha una filiera nel senso che produce confettura d'uva confettura di ciliegie olio Out ma anche prodotti dell'orto melanzane sott'olio zucchine sott'olio e l'ultimo prodotto neonato è stato proprio il succo di melagrana questo succo è nato dopo tre anni di attesa perché abbiamo degli alberi che siamo riusciti a piantumare durante uno dei campi state liberi con gli anziani dell'ospici GL e questo è un grande risultato vedere una pianta che cresce attendere tre anni il frutto vedere il risultato e poi un attimo che adesso vi faccio vedere riuscire a mettere questi prodotti nel nostro pacco per noi è molto importante perché rappresentano la possibilità di generare un'economia vera concreta libera solidale etica ma soprattutto buona perché è buona nel senso che è biologica certificata quindi noi sui nostri profili social cooperativa sociale altereco terra aut qualche indicazione per chi vuole contatti come numeri di telefono e mail come coop punto altereco chiocciola yahoo punto it dove potete fare i vostri ordini i nostri prodotti si sono arrivati in Francia sono arrivati anche a Bruxelles grazie all'impegno di una rete solidale europea sono sugli scaffali di Bruxelles sono sugli scaffali dei punti vendita ipercop di Italia durante le promozioni sapori si parte e nei punti vendita ipercop di Puglia sempre questo per raccontarvi che cosa che è una piccola idea di presa può diventare economia reale oggi a Terraut nell'ultima settimana sono partiti lavori di strutturazione perché abbiamo vinto dando sui beni confiscati promosso dalla fondazione con il su il progetto si chiama il fresco profumo della libertà proprio prende il titolo dalla citazione di Borsellino preferisco il fresco profumo della libertà al puzzo del compromesso ecco volevamo dare un'idea di freschezza di libertà di leggerezza che è quella di cui abbiamo bisogno nel nostro territorio perché tante sono le realtà che si occupano di questi temi ma poca luce hanno perché purtroppo fa più rumore la violenza la sopraffazione e tutto ciò che è di negativo purtroppo in questi anni si è sedimentato nel nostro territorio oggi diciamo Terra Out sta realizzando quel sogno che nel 2011 era diventato quasi impossibile si sta trasformando in una masseria sociale diventerà un B&B sostenibile collocato sulle vie francigene del sud della tappa 21 che collega Cerignola a Canossa che poi si aprirà verso Brindisi perché come sappiamo le vie francigene arrivano a Brindisi e saremo in rete con le vie francigene del sud con la Proloco territoriale e lì ci sarà anche una bottega di prodotti a chilometro zero nel senso che avremo non solo i nostri prodotti funzionati ma venderemo il fresco e i nostri diciamo clienti o compagni di viaggio come vogliamo chiamare potranno scegliersela anche il frutto per cui l'idea è proprio questa di creare un'altra ecologia e di entrare in contatto con la nostra terra perché siamo così ricchi e non lo sappiamo Dora abbiamo solo un minuto mi racconti quello che hai vissuto con la visita del Premier Conte nella scorsa estate un minuto è pochissimo comunque ci proverò è stata un'emozione incredibile la Commissione Antimafia ci ha contattato per realizzare campi in rete con NCO noi abbiamo sviluppato la proposta progettuale l'organizzazione logistica perché è stata attenta precisa e capillare perché dovevamo rispettare tutti i protocolli covid e insieme al Ministero dell'Istruzione si è concretizzata anche grazie alla collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha chiamato a raccolta tutti gli studenti che potevano essere destinatari di questa misura l'arrivo di Conte è stato inaspettato noi ci aspettavamo sicuramente il Presidente della Commissione Antimafia perché ci aveva promesso la sua presenza ma ha fatto di più il nostro referente per la Commissione Antimafia ci ha detto noi abbiamo condiviso col Presidente Conte l'idea e dato che Altereco è l'unica cooperativa di Puglia ad accogliere i campi di Legalitour ha deciso di venire perché le sue origini sono Cerignolane il suo padre il padre del Presidente del Consiglio è nato a Cerignola quando è arrivato insieme alla Ministra dell'Istruzione al Presidente della Commissione Antimafia è stata un'emozione intensa perché personalmente è un momento storico per la nostra città perché finalmente arriva un'istituzione pubblica non sopra una tragedia per sottolineare una tragedia un avvenimento terribile ma per sottolineare speranza cioè la speranza è rivolta verso tutti quei ragazzi che sono venuti sui beni confiscati in luglio e si sono impegnati in un campo di formazione e lavoro questo ha restituito a noi al Terrico ma a tutte le organizzazioni del territorio anche a chi vende libri a chi proietta film ai cinema ai teatri a tutti quelli che si occupano di cultura che è possibile evolvere l'attenzione del Presidente del Consiglio della Commissione Antimafia del Ministro dell'Istruzione è stata molto importante perché ci ha restituito tutto quell'impegno tutta quella sì ci ha dato dell'energia intensa che durante quest'anno così difficile è stata molto importante ed è stata l'infa anche per i ragazzi che hanno ricevuto le istituzioni i feedback dei ragazzi sono stati molto belli tutti quanti hanno detto non avrei mai pensato nella vita di riuscire ad incontrare il Presidente del Consiglio perché il Presidente del Consiglio ha messo al centro del suo intervento proprio i ragazzi e l'impegno dei ragazzi nel fare impresa nei propri territori prendendosi le proprie responsabilità e per me questa è stata un'azione civile importantissima grazie con l'auspicio di venire direttamente sui campi a vedere il vostro lavoro sperando che questa emergenza ci lasci lavorare con più libertà purtroppo con l'auspicio appunto di incontrarci lì in quella terra in quel progetto veniamo a vedere che cosa fate appunto sul campo io ti ringrazio per averci dato il tuo tempo per averci reso partecipi di questa vostra bella esperienza e ti ringrazio ti do appuntamento al più breve tempo possibile se così possiamo dire io ti sto invitando quest'estate a respirare con noi il fresco profumo della libertà perché a Terra Hot sicuramente entro quest'estate riusciremo ad inaugurare la masseria sociale e a dare la possibilità a tutti quanti di riuscire a vivere quel bellissimo spazio che è la natura libera e sempre disponibile grazie e io vi do invece l'appuntamento alla prossima settimana ancora con un'altra puntata di Femminile Plurale siamo su tutti i social ve lo ricordo chi vuole può scriverci redazione chiocciola teledeon.it alla prossima grazie a tutti i nostri